Ok, buonasera, buonasera a tutti, oggi mi trovo in un posto molto carino, siamo in mezzo della campagna, siamo a cena e ho l'onore di intervistare un giornalista, un giornalista che è conosciuto dalla televisione, è conosciuto dalla stampa, diciamo così, è conosciuto dal cosiddetto mainstream, anche se lui non si dichiara all'interno del mainstream, è stato diverse volte in televisione, eccetera, eccetera. Quindi ho l'onore e io sono anche onorato di avere con me Luca Telese, grazie. Ciao! Grazie dottor Telese. Oh che bello. Eh sì, bisogna anche dare il nome giusto, no? È vero, però non sono dottore, perché non mi sono laureato, ho iniziato a lavorare prestissimo, a 18 anni, entrando con uno stage vinto al messaggero e quindi praticamente ho dato tutti gli esami, mi manca un esame e la laurea, dal 96, non mi sono mai laureato. E quindi sei pubblicista allora? No, sono giornalista, professionista, questo sì, assolutamente, sono diventato dopo tanti anni di chiavetta, però non sono dottore nel senso che non sono tecnicamente laureato, tra tanti millantatori è bene dire come stanno bene. Io allora ti chiamo così Luca Telese e siamo a posto, senza nessun problema. Allora Luca, perché questa intervista? Perché in questi giorni stai presentando un libro, un libro che si intitola La scorta di Berlinguer. Io essendo stato in quei anni lì, è stata un po' la mia vita, la mia storia, perché io la prima volta che ho preso in mano la tessera della FGC è stata un 1973. Quindi avevo la bellezza di quattordici anni. Quando che è morto Berlinguer io sono fuoriscito dal Partito Comunista, perché ho detto è finita una storia, molto probabilmente avevo già previsto anche io. Avevi ragione. Ma comunque torniamo a noi Luca. Perché intanto di questo libro? Perché era un grumo di memorie straordinarie a cavallo del Novecento, gli uomini della scorta non erano stati raccontati a nessuno, avevano un loro pudore, se vuoi operaio e anche comunista, quindi consideravano importante difendere Berlinguer, erano l'unica scorta non militare, non di polizia, erano tutti militanti e erano tutti operai, artigiani, quindi persone anche umidissime e si trovarono per l'incidente della storia fra il 68 quando nasce la scorta e Berlinguer diventa liceo segretario e il 1984 quando muore in questa lunga cavalcata che è apparentemente breve perché sono 16 anni ma accade di tutto, anni di piombo, stragi, colpi di stati mancati, il delitto moro, lotte operaie, la Fiat, i cancelli della Fiat, la cassa integrazione, succede veramente di tutto e praticamente per effetto di questa sicurezza deve crescere soprattutto dopo il ritrovamento del cadavere di Moro a Viafani, la scorta si raddoppia, diventa di 3, di 4, alla fine di 7 persone e diventa un gruppo unitissimo che vive a tempo pieno condividendo tutto. Ecco, stasera infatti mi ha fatto anche piacere conoscere uno della scorta perché molto probabilmente tanti se ne sono anche andati magari. Dei 7 nucleo proprio più stretto che era intorno a Berlinguer sono vive solo due persone, uno è un modenese, si chiama Otto Grassi, detto Otto perché veniva da Filotto perché giocava boccette, non so se anche qui ci sono le boccette, c'è la stecca e anche le boccette. E l'altro superstite è Roberto Bertuzzi che è conosciuto stasera, ex operaio della Voxon che tra l'altro ti racconta anche subito con un aneddoto che hai sentito raccontato dalla sua voce che il giorno del rapimento Moro c'è un bisogno di implementare ulteriormente la scorta e quindi dicono ti devi licenziare e lui dice il giorno più felice della mia vita unendo due cose che oggi sono incomprensibili sia che uno si licenzasse volontariamente sia che fosse felice di farlo ma lui si licenziava per andare a lavorare un bottiglio scuro e racconta sempre che il giorno in cui scende il capo della vigilanza Marini e dice tu, anzi Salvatore Cacciapuoti vecchio dirigente comunista e dice tu domani sali sull'auto con Berlinguer per salire sul lato di Berlinguer era una specie di elevazione al soglio pontificio. Certo, beh insomma era una bella soddisfazione comunque perché insomma anche perché in quei anni lì insomma Berlinguer era visto come uno dei maggiori statisti assieme a Moro e perché poi loro due come hai detto te e hai descritto in quegli anni lì è cominciato praticamente tutto il lavoro del famoso compromesso storico. E tra l'altro Roberto era orfano? Non solo è orfano ma era stato poi adottato come accadeva negli anni cinquanta in Bonis diciamo senza carte burocratiche da una famiglia molto povera dove però vigeva un motto che qui si usava molto dove c'è per sei c'è anche per sette e poi gli assistenti sociali lo tolsero anche da quella famiglia e lo sbatterono in un collegio. Quindi poi Roberto che diventa operaio, lavora alla Vox in queste condizioni e raccontate oggi sembrano da Filanda dei primi del Novecento, tutte donne dietro al motore che non possono alzarsi per andare in bagno bisogna prendere una paletta e se ci sono le tre palette fuori che uno entrava in bagno e faceva bisogno con la paletta in mano nessuno poteva alzarsi per andare in bagno. Ecco sembra che sono passati cento anni, era solo il 73, il 74 e il 75 alla Vox. Racconta Roberto che fu una grande battaglia poter fare un questionario fra queste donne chiedendo come vivevano le condizioni di lavoro, i padroni della fabbrica dissero no il questionario lo facciamo noi e no non lo fate voi lo facciamo noi perché poi queste persone non si sentono tranquille se altri leggono e quindi usci fuori da questo questionario che molte donne donne avevano problemi, perdite, dolori fortissimi e quindi praticamente si ottenne dopo quel questionario, è un po' una metafora di come arrivarono i diritti in quegli anni, si ottenne il diritto di poter sospendere e rallentare il motore quando si andava in bagno, oggi sembra una follia eppure allora in una fabbrica in cui lavano 1200 persone sotto un unico capannone con tre palette per tre cessi scusa è un segno così come i più vecchi venivano due venivano dalla resistenza e alcuni venivano come Alessandrelli dalla lotta nelle borgate nelle periferie, oggi la destra vince nelle periferie abbandonate allora ovviamente vinceva il partito comunista, il vero partito comunista, la vera sinistra dal mio punto di vista è molto divertente la storia che racconta Alessandrelli, romano, anche lui fabbro per una coincidenza praticamente viveva in questa borgata a Quartomiglio totalmente abbandonata, ora è un quartiere quasi residenziale e praticamente avevano fatto tante proteste in Campidoglio perché nessuno allacciava le fogne, c'erano le giunte democraziane, gli anni nel sacco di Roma, loro fanno 13-14 presidi democratici, non li cura nessuno e siccome poi nella stessa sezione, quindi dobbiamo raccontare a chi ci ascolta che c'erano le sezioni, c'era gente, si conosceva tutti, c'era un iscritto, un compagno come diceva allora e lavorava in comune al servizio segnaletica allora questo Alessandrelli ebbe un'idea, ma tu puoi portare gli stampi con cui fate i segnali di pericolo e siccome era fabbro, crearono delle pale in tutto per tutti identiche ai segnali veri e uno era pericolo veleni, intossicamento, epidemia, cioè tutti dei segnali che a Roma per fortuna venivano mai usati, li misero intorno al quartiere sperando che ci fosse un effetto e l'effetto fu così grande che si bloccò prima Lappia, poi Lappia Pignatelli, poi tutta Roma fino a Piazza di Roma che sono 8 km più in là, arrivò la polizia, li arrestò con la gente dai balconi, applaudiva, bravi bravi, poi li portano in commissariato, confessate siete stati voi comunisti, ma no commissari, ho un alibi, ero con i miei compagni in sezione a giocare a carte, confessate, e alla fine lui non confessò, il commissario non si capisce se è costernato o in parte solidale, gli disse comunque domani vengo a locciare le foni due giorni dopo lo chiamano a Botteghe Oscure e entra anche lui nella scorta, perché questa è una cosa interessante, oggi nel tempo in cui si scalpita e ci si mette in mostra, allora non ti mettevi in mostra ma c'era qualcuno che cercava dei talenti, quindi la scorta si inventa mille modi artigianali per difendere Berlinguer, tre macchine blindate, la prima viene blindata in maniera artigianale, ovviamente prendendo le ferie dagli operai di Piombino dell'acciaieria che ora non esiste più, che attaccano delle placche d'acciaio su una vecchia 132 e praticamente dice come andava, chiedo a Menichelli che era il capo della scorta, e insomma io vado da Cossulta che allora era il capo dell'organizzazione e gli dico ma Berlinguer lo devo ammazzare ai Brigate Rossi o dobbiamo ammazzare noi? Ma che stai dicendo? Eh guarda la macchina è perfetta, solo che se provo a girare le ruote scodano e c'è il rischio di sbandare con la macchina. Erano le belle storie, allora comprano, trovano una blindata di un miliardario svizzero che si era preoccupato per il sequestro del presidente della Confindustria tedesca, poi ha trovato una macchina migliore, ha lasciato questa, stava da un concessionario a Torino, anche qui dobbiamo raccontare cosa era quel mondo, un iscritto del partito che lavorò al concessionario chiama il consigliere di zona e gli dice guarda qui c'è una blindata, allora il consigliere di zona chiama il capogruppo in comune, il capogruppo in comune va dal sindaco di Torino che allora era Diego Novelli, te lo ricorderai, detto per una bianca, Novelli chiama un dirigente torinese che si chiama Alberto Minucci che sta a Botteghe Oscure, quello va dal capo della sicurezza di Botteghe Oscure e il capo della sicurezza di Botteghe Oscure chiama questa concessionaria, chi va, sto dicendo so che avete una blindata, la compriamo noi, ma allora quello dice ma è una macchina che costa 80 milioni di lire e allora dice ma non si può fare un finanziamento su una blindata, paghiamo in contanti, ma non l'ha neanche vista, allora lui un po' spazientito, questo marini dice guardi io di questa macchina so già tutto e quindi arriva questa blindata e quando poi nell'incontro di cui parlavamo, segreto, in cui si incontrano Moro e Berlinguerre, nessuno sa niente, si incontrano anche due scorte e un uomo che entrerà nella storia d'Italia, il maresciallo Leonardi, va da Menichelli che è il capo scorte dei Berlinguerre e dice ma voi questa blindata dove l'avete presa? Perché loro l'avevano chiesta e il ministero dell'interno non gli aveva negato, sono gli aneddoti di questa storia poi, è la nostra storia per quelli che hanno militato ma anche non solo quelli che hanno militato. E poi quest'intrico di famiglia era molto bello, per esempio la figlia di Lauro Righi che era il modenese, l'ex partigiano, mi ha raccontato che c'era anche questo osmosi e quindi lei chiedeva, era adolescente a Roma, agli anni settanta, diceva voglio uscire e allora la madre non se ne parla, modenese ma molto quadrata e allora lei dice papà ma tu che ne pensi? E allora lui timidamente dice ma Bianca e Maria? Chi sono? Le figlie di Berlinguerre? Io so che sono uscite, che sono andate al cinema e allora la madre sbuffando dice vabbè allora fate, e allora comandate voi e aveva consentito a questa richiesta. Poi c'è una richiesta ulteriore perché c'è la festa dell'unità, c'è un concerto molto famoso, ti ricorderai la tournée di Dalla e dei Gregori? Sì, sì, era a Bologna. Banana Repubble. Sì, era a Bologna, era a Bologna. E allora di nuovo la figlia chiede a casa, dice ma io vorrei andare, di nuovo la madre fa a Bologna da sola, tu stai a Roma figlia, come ci vai là? E allora Lauro dice però Bianca e Maria, oh adesso basta con Bianca e Maria, Berlinguer potrà pure fare il segretario del PC, ma a casa mia decido io. Ma è bello a proposito di donne. Però ricostruisci tante cose seguendo questo filo di... Stavo appunto ragionando sulle donne perché hai portato un'altra bella culina, lo sciopero del sesso. E no, non mi far raccontare queste cose, se ci sono dei minorenni, tappate le orecchie. Due minuti che è bella questa qui, è molto bella. Allora, decido di... siccome è anche una storia di una famiglia allargata, abitavano a Roma tutti emiliani, romagnoli, calabresi, napoletani, il partito ha preso delle case. che erano tutte in un unico quartiere e quindi si creavano famiglie consanguine e persone in questo mondo che si fidanzavano come accadevano gli altri, facevano tutti le vacanze, il partito pagava poco, mandavano tutti a meano adriatica in un'unica pensione in cui accadevano lite, corne, straordinarie come accadevano in tutte le comunità umane. E allora, dico, ma fammi andare a intervistare Adelina, 93 anni, ancora via, che è la moglie di Dante Franceschini, che era un altro degli altri partigiani, ed era uno che Pertini, riconoscendolo da Quirina, gli aveva detto, Dante, ma non saluti i vecchi compagni di battaglia! Non è un parente di Franceschini il brigattista? No, no, assolutamente, anzi, se glielo dicevi poteva arrabbiarsi molto, perché lui era toscano e quel Franceschini, come sappiamo, è di Reggio Emilia. Va bene, allora vado a intervistare Adelina e lei, 93 anni, ma molto cazzuta, come si dice a Oxford, mi fa, ma mica sarai venuto a intervistare la moglie di Dante Franceschini? Adelina, mi faccio così, Madelina, veramente sì, e allora lei mi guarda con un sorriso e fa, ma io non sono la moglie di Franceschini della scorta di Berlinguer, io sono la cuoca di Longo, rimango un attimo stupito e mia sorella, come dire, quando uno mette il carico, era la cuoca di Togliatti, poi fa una terza pausa e prima che io faccia in tempo a fare una domanda, ma come è accaduto, perché erano due ragazze sedicenniche che erano partite dal Veneto per andare a lavorare a Roma con una sola valigia divisa in due perché avevano i soldi per due e lei fa, pensa, se scioperavamo noi due il PC moriva di fame e quindi sono rimasto stupito, però vi dà l'idea di che cos'era quel mondo, ognuno aveva un ruolo, tutti pensavano di fare qualunque cosa, pensa di Laura, la figlia più piccola Enrico, racconta che a casa, nell'estate del 79, loro devono ormai informare il ministero dell'interno e gli chiedono se possono fare delle vacanze in Italia, il ministero dell'interno risponde no, non è sicuro, può esserci una minaccia, non dimentichiamo che Moro era stato ucciso l'anno prima e le Brigade Rosse hanno al massimo della potenza e allora ricorda Laura che tutti i figli esplodono, no, no, vogliamo fare le vacanze qui e allora la madre fa ma potremmo andare in Cecoslovacchia, potremmo andare sul Mar Nero, no, per carità e allora a un certo punto Menichelli, sempre il capo della scorta, dice ma forse possiamo trovare un posto, allora gli viene in mente di andare in un'isola, in una regione rossa che era la Toscana, trovano un quartiere dell'Elba dove l'80%, una cosa folle, oggi erano tutti iscritti al PC e addirittura il partito assegna dei turni alle persone che stavano a casa loro alla finestra con un blocco notes, quindi immaginiamo che a casa tua c'erano tre persone, si impegnavano a coprire le 24 ore e qualunque macchina passasse che non fosse riconosciuta loro segnavano la targa, la segnavano la scorta, la scorta telefonava a Roma al ministero dell'interno e se non era un paio di turisti tedeschi passarono un bruttissimo quarto d'ora perché erano semplicemente in vacanza, allora c'era Badernainoff e le Brigate Rosse tedesche, praticamente furono fermati da questi abitanti del quartiere che dicevano chi siete, dove andate, quelli rispondevano in tedesco e alla fine passarono veramente un momento, però questo per dire com'era il controllo sul territorio, riuscirono a fare questa vacanza e Laura ricorda sempre che la donna che allora fece la cuoca cucinando per tutte queste persone, la scorta, Berlinguer, la famiglia, i figli della scorta, l'ha chiamata per tutta la vita per fargli gli auguri del compleanno dicendo io ho questo ricordo bellissimo del tempo che ho passato con voi, poi le altre vacanze Berlinguer le faceva Stintino e Roberto Bertuzzi che poi magari devi sentire anche lui, però racconta che quando tornava in Sardegna diventava felice come un bambino e soprattutto amava salire sul gozzo che era la barca più umile, però una barca a vela latina e affrontare il mare in tempesto. Con Bertuzzi gli farò una telefonata, vediamo, gli farò un altro giorno da caso insomma. Allora, tu hai raccontato un po' il libro praticamente. Eh, sono 400 paglie, questa è una minima parte, però dò un'idea. Ma io me lo sono già acquistato stasera perché anche se sono non vedente ho il mio lettore. Ma io ti mando il testo in pdf. No, no, me lo sono. Ma sei già organizzato. Ma come funziona il lettore? È un modi scanner, metti il libro e ti legge tutto, devi impremere dei bottoni, ho letto tutti i quaderni di Gramsci, quindi non c'è problema. Porca miseria! Sono un grande lettore di Gramsci, un grande studioso, con i miei limiti ovviamente, perché io ho fatto la terza media, quindi non c'è problema. Il problema è quando uno ha una cultura autodidatta e loro l'avevano, può veramente superare molta gente che perde tempo sui banchi di scuola anche se piglia un pezzo di carta. Ascolta Luca, dove possiamo trovare il libro? In tutte le librerie d'immagine? In tutte le librerie, spero non su Amazon, cioè prendete un video. Da un libraio aiutatelo vivo, se proprio non potete andare in libreria, se siete non deambulanti ve lo fate portare a casa. Oppure se siete in occasione... Tra l'altro pensa a quest'altra cosa, ovviamente Berlinguer riceveva dalle case editrici molti libri di persone che volevano far conoscere, allora siccome però lui comprava già da sé novità librarie, a Natale prendeva tutti i libri che aveva a doppioni e gli dava la scorta e c'erano già pronti, i figli dicevano senti ma vedi se Berlinguer nei libri che stanno c'è Calvino, vedi che mi piacerebbe avere quel nuovo romanzo eccetera e facevano, siccome ovviamente molti erano contesi, dividevano questi libri in lotti in cui c'era prima scelta, seconda scelta eccetera e poi tiravano a sorte. Allora racconta Luisa quando tornava mio padre e sapeva che aveva fatto questa riffa dei libri, gli dicevano sei riuscito a prendere Calvino? Perché molti sacrifici, pagati poco e ora Roberto Bertuzzi lo ha raccontato, lui prende una pensione da 1050 euro, è stato massacrato dall'aumento delle bollette e però sono contenti perché dicono quegli anni che abbiamo passato sono stati gli anni più belli nella nostra vita. Erano anche un po' tipo amici miei, Dante, quel compagno che ti ho detto che era partigiano, facevano uno scherzo perché lui era molto ghiotto, arrivavano in un posto in cui dovevano andare a cena e allora dicevano al padrone del ristorante guardi purtroppo il nostro compagno ha avuto un brutto tumore quindi non può mangiare le cose che mangeremo noi, li deve portare solo del brodino, però glielo decanti molto, allora arrivavano queste portate in cacciagione straordinarie e poi arrivavano da Dante con una scodella coperta e dicevano questo è un meraviglioso consomè, poi dopo arrivava il secondo braciola e carne arrosto e improvvisamente Dante faceva ma questo ce l'ha con me? E con un altro brodino? E Berlinguer rideva fino alle lacrime per la lattuga che gli avevano portato. Grazie Luca e a presto. Sì ma forse hai detto solo una cosa, Berlinguer muore nel modo più tragico, non è mai accaduto prima né dopo che un uomo pubblico morisse su un palco ripreso da una telecamera, ci fu una commozione incredibile e fra l'altro in quegli anni si diceva che Berlinguer era isolato, che era troppo di sinistra, che era battaglia sulla scala mobile per difendere l'area sbagliata, che la sua battaglia sulla pace era utopica, però per la legge elettorale tu sai bene che rimase nelle liste, non poteva essere tolte perché sono state già presentate e si andò a votare nel 1984 e Berlinguer da morto fu il leader più votato in Europa e il PC sorpassò per l'unica volta nella sua storia la democrazia cristiana. Esatto. Quindi averne di sconfitte così. È stato è stato un grande per me, mi sono commosso questa sera sentendo queste storie, mi sono commosso e mi sto commomendo ancora anche adesso, quindi grazie, grazie di questo libro. Grazie a voi. Dobbiamo salutare gli amici che ci sentono sul canale. Sì, se vuoi. Come si chiama il canale? Il canale? Beh, adesso mi hanno bannato. Allora, o voi che ci ascoltate, o voi che ci ascoltate, ciao! E praticamente il canale è a nome di mia moglie per il momento. Bene, bene. Ottimo in clandestinità. Sempre cospirativo. No, non c'è, non c'è problema. No, ma sto scherzando, sto scherzando. Sto sovversivo. Hai spettato?